Una generosa catena di sole dell'età si sta sviluppando in tutta Italia in favore del pensionato gelese che rischia la morte per la mancanza nelle farmacie di un medicinale, lo zente le compresse da 400 mg, capace di tenere in letargo la echinococosi cistica di cui affetto da anni. Una farmacista di Corleone, Rosa Binenti, è stata la prima a mettere a disposizione i residui di magazzino del farmaco, due scatole e cioè se compresse, che spedirà all'indirizzo del paziente gelese. Ma un aiuto molto più consistente giungerà dalla farmacia del Policlinico di Palermo, che ha comunicato di aver accertato una disponibilità ospedaliera di quasi 400 scatole del prodotto. Tuttavia, non è possibile erogarlo all'esterno. Dovrà essere il servizio di malattie infettive di Gela ad inviare il paziente per una consulenza specialistica presso il Policlinico Palermitano, dove da ricoverato potrà essere assistito con la somministrazione del prezioso medicinale. La soluzione per tutti gli ammalati italiani affetti da questa patologia però viene prospettata dall'Agenzia Italiana del Farmaco, l'AIFA, che comunica di avere già rilasciato alcune autorizzazioni per l'importazione dall'estero del farmaco Sravavita, la cui produzione è stata sospesa dalla Glaxo nello scorso mese di agosto e comunicata a settembre alla stessa AIFA. Nelle prossime 48 ore dovrebbero essere completate le verifiche in corso per accertare la disponibilità del prodotto. I tempi necessari per un ritorno alla normalità però non sembrano inferiore a 30-40 giorni e dunque coincidono con la ripresa della produzione annunciata dalla Glaxo per il mese di marzo.